La domanda che molti si pongono è la seguente. Come mai va di moda il complottismo? La spiegazione a me è semplice. La società è fatta di individui e generalmente l'individuo che partecipa alla società preferisce affermare che esistono associazioni occulte, piani segreti, fatti scelerati per la semplice legge dell'etichetta. Se io scarico la colpa mi sento meno responsabile se la nostra società fa schifo. Molto più facile dire questo che dire, ma forse se le cose vanno male non è anche colpa mia? No eppure, quanti di questi che gridano al complotto sono stati raccomandati per il posto di lavoro che occupano? Quanti di questi che gridano alle società segrete non si sono fatti aiutare dall'amico importante per occupare cariche che non gli spettano? Quanti semplicemente si sono fatti aiutare per passare velocemente una pratica perché conoscono la persona giusta al posto giusto? Come chiamereste voi qualcuno che grazie a amicizia occupa cariche, lavora e fa passare pratiche grazie ad appoggi di potenti o di persone giuste nel posto giusto? Siccome molte di queste persone sono entrate grazie a dei favori si scaricano la coscienza dicendo è colpa di una regia superiore, occulta. E molti che vorrebbero avrebbero voluto fare la stessa cosa e non possono, perché vi assicuro, che questi non gli piace perché non possono, non perché non vogliono anche loro usufruire di tali vantaggi e gridano al complotto. I primi per ipocrisia e i secondi semplicemente per invidia. Lo scaricabarile fa comodo a tutti a quelli che ne usufruiscono e a quelli che vorrebbero ma non possono. Oggi la situazione è talmente evidente a tutti che si preferisce incolpare sempre qualcun altro, le regie occulte, le scie chimiche, gli illuminati di Baviera eccetera eccetera. Ma come disse bene Higgins Alconor la gente semplicemente, se ne frega. Non vuole un mondo migliore ma solamente la soluzione ai suoi problemi. Siccome la cosa è ampiamente e vergognosamente ignobile allora tutti preferiscono credere che esista una regia occulta per poter scaricare la colpa a qualcun altro. Ogni anno aumentano divorzi e separazioni, se la gente divorzia è colpa di società occulte oppure perché la gente è diventata sempre più egoista e insensibile e se ne frega dei valori fondamentali. Perché, se poi la gente ritiene che la colpa sia del consumismo continua imperterrita a farne uso. Perché se queste persone lamentano di una società vuota alla fine vanno in palestra e si comprano magliette che vanno alla moda. Sono poi gli stessi che su YouTube mettono i video per una ricerca spirituale interiore e contro il complotto della NWO. Capito? Aveva ragione Higgins. La gente se ne frega però ha bisogno di qualcuno che faccia da capro espiatorio anche se inesistente. Il problema è economico. Oggi è il petrolio, vero? Tra dieci o quindici anni cibo, plutonio e forse anche prima sei. Che cosa pensi che la popolazione pretenderà da noi allora? Chiediglielo. Non adesso, allora. Devi chiederglielo quando la roba manca. Quando l'inverno si gela e il petrolio è finito. Chiediglielo quando le macchine si fermano. Quando milioni di persone che hanno avuto sempre tutto cominciano ad avere fame. E vuoi sempre di più? La gente se ne frega che glielo chiediamo, vuole solo che noi provvediamo.